Tutti, oggi prepareremo il succo d'anguria. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa cinque minuti. Per gli ingredienti abbiamo solo l'anguria. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Andiamo il via alla ricetta. Andiamo a inserire l'anguria all'interno del boccale. Andiamo a tritare per tre minuti a velocità sette. Il nostro succo di anguria è quasi pronto. Andiamolo a filtrare con un colino a maglie strette. Adesso con l'aiuto di un colino a maglie strette andiamo a filtrare il nostro succo per eliminare eventuali semi e fibra. Bene, dopo aver filtrato il nostro succo di anguria andiamolo a trasferire in un contenitore, in un boccale, dove meglio preferiamo. Il succo di anguria viene utilizzato per aperitivi, sorbetti, granite e gelati. Succo di anguria. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!